Benvenuti a tutti a questo mio nuovo video Dopo un po' di tempo torniamo Anzi, vabbè, vi dato niente Perché comunque sul primo canale Principalmente i contenuti che carico Sono di unboxing Però Solitamente, ultimamente Questo 2024 È stato un anno in cui Ho unboxato per la maggiore Prodotti Usciti da parecchi anni Ok, che abbiamo fatto lì I due di Lady Oscar Però quelli là non li avevo comunque Comprati al Day One Mentre oggi andremo ad unboxare Una release comprata Del Day One Quindi forse è l'unica Non lo so, sarà la prima O se non è la prima, sarà la seconda Forse qualcosa di Coach Media Quest'anno dovrei aver comprato Però vabbè, comunque Non è importante, mi stavo Allungando troppo Come potete vedere, unboxiamo L'edizione Blu-ray più DVD Di Perfect Blue Che per il momento È l'unica che sarà fatta In realtà c'è anche Un'edizione liscia DVD Ma non credo Gliene fallerà qualcosa A qualcuno Per il momento c'è solo questo Il 4K Se ne parlerà poi Chissà quando Perché non è ancora uscito in Giappone Quindi Ma chiaramente Se non esce in Giappone Non può uscire In tutto il resto del mondo Il 4K Però il Master Utilizzato è comunque lo stesso Semplicemente in 4K I Giapponesi ancora non autorizzano Ad uscire Agli altri Però Di per sé il Master Che c'è all'interno Di questa edizione È semplicemente il medesimo Solo che non avrà Non avrà la resa 4K Questo è il davanti Il retro Non ha Cioè c'è scritto edizione Di tiratura limitata Ma non c'è presente qua davanti Nessun tipo di numeretto Ah sono sorpreso Pensavo che la Maree Avesse avuto La stessa identica copertina Invece Oh Che è qua Boh Che è sta roba Aspetta Vabbè C'è un po' di Cart Rimasta qua Vabbè Questo è il davanti Questo è il retro Dai Quanto meno Cioè Io mi aspettavo La stessa identica copertina Invece Hanno sfruttato la cosa Poi Questo È il sotto Qua c'è il Blu-ray E qua c'è il DVD Poi È presente Un booklet di 4 pagine La copertina del booklet È Quella che Ha l'edizione liscia DVD E questa Vabbè L'altra copertina Allora Personaggi Disegni preparatori Personaggi Ancora personaggi Un po' di fondali Credo siano tutti i personaggi del film Altri fondali Fondali Layout E un po' di making of Interviste a Satoshi Con E un po' di Artbook Un po' di galleria Devo dire che come booklet Non è affatto male Cioè fa il suo onesto lavoro Adesso inseriamo i dischi nel lettore Vediamo un po' I contenuti extra Che ci saranno Se volete supportare il canale Grazie a Ko-fi È possibile Trovate il link Di iscrizione Con un euro al mese Potete Supportare il canale Vi ringrazio in anticipo Per le donazioni Allora Ed eccoci con Il blu-ray Almeno non presenta La stessa copertina Della strada coperta Vabbè Ci siamo abituati E come extra Troviamo i teaser I trailer E un'intervista A Satoshi Con Penso che i cast Si Ah si qua ci sono i doppiatori originali Insomma vabbè Devo dire che questo contenuto extra Sarà sicuramente interessante Ed eccoci con il dvd Il menu è approssimato L'identico C'è cambia solo un po' La barra con le quattro opzioni E anche credo nel dvd Ci sarà l'intervista Buona questa cosa Ed eccoci alle conclusioni finali Allora Io l'ho pagato il prezzo del listino Perché vabbè In ogni caso l'avrei pagato Il prezzo del listino Perché lo volevo molto Chiaramente l'ho preso dal day one Tra l'altro questo Neanche l'ho preso su amazon Ma l'ho preso Nel negozio della mia città Che ho deciso di Ritornare ad avere l'abitudine Alcune cose di comprarle lì E quindi L'ho pagato comunque il prezzo del listino Rispondo anche subito A quello che Chiaramente sarà Ma lo è stata già E lo sarà sempre Una polemica Ovvero che Molti si lamentino Perché ci deve essere il dvd Perché fare le cose insieme In parte Può starci Come polemica Però io Nonostante sono acquirente Del blu ray E quindi io Potrei anche essere d'accordo con voi Però sono dell'idea Che a certe cifre Nell'edizione di questo tipo Secondo me è bello Avere tutti e due i formati Anche perché State tranquilli Che Non è che se Qua dentro Non ci fosse il dvd Lo paghereste di meno Cioè Chi ha diritto Di lamentarsi davvero È l'acquirente del dvd Semmai Perché è lui Che paga di più Questa roba Perché È lui che pagherebbe di meno State tranquilli Perché se qua dentro Non c'è il dvd Non è che lo pagate di meno Sempre 30 euro pagate Quindi Le polemiche fatte Da i blueristi Hanno senso Fino a un certo punto Perché non è che Risparmierebbero Effettivamente qualcosa Qua Gli unici che possono Effettivamente lamentarsi Sono Quei pochi che erano Interessati al dvd Con questa Diciamo Facendolo con questa cover Che devono per forza Sorbirsi anche il blu ray Però vabbè A parte questo Può avere Può avere senso Spettare Un abbassamento Di prezzo In massima Si può sempre rispondere Sì a questa domanda Però mi sentirei Di Di dire che A prezzo pieno A 30 euro Ci può stare Perché Comunque C'è un bel booklet Anche Abbastanza ricco Di contenuti Nel disco C'è Una bella Intervista Che dura 41 minuti L'intervista È stato Cicon Tra l'altro Su blu ray Dura 41 Su dvd Dura 39 Qualcosa C'è un minuto e mezzo In meno di durata Chi sa perché Però comunque Del contenuto C'è anche su dvd Quindi Visto che Rispetto Di solito Nelle edizioni Di amato In generale Nelle edizioni italiane Degli anime Abbiamo La metà E neanche Dei contenuti Che ha questa edizione Mi sentirei Comunque Di Consigliarvi Di prenderlo Tranquillamente A prezzo di destino Però vabbè Se chiaramente Volete aspettare Che scenda Di un 5 euro Volerlo prendere A 25 Chiaramente Non fate male Non fate mai male A fare questa cosa Tranquilli Su questo Risposta a quella domanda Senza aspettare Un abbassamento di prezzo Quello vale sempre Di sì Però Questo Al prezzo di destino Può Penso sia Si meriti L'acquisto Si può meritare L'acquisto Detto questo Iscrivetevi Al canale Vediamo un po' Se ne pensate Di questo film Di questo acquisto Ditemi se Anche voi L'avete comprato Se invece Lo dovete ancora fare Se avete intenzione Di fare Insomma Creiamo una discussione Nei commenti Ci vediamo Al prossimo video